Buongiorno, come ti chiami? Marco. Cosa ti spingi oggi fra tutti questi pazzi? Cioè mi spingono, mi hanno obbligato, ricattato. Dai, chi ti ha ricattato? Il gruppo, tutti. E quelli che stanno arrivando che hanno appena finito di fare il video dietro l'aereo. Grandioso, appena arrivano le impressioni a caldo. Io sono Francesco, sarò il tuo video, mi raccomando guardami, testa alta, sorridi, fa gesti e diverti. Alla grande, grazie mille. Andiamo un attimo dagli amici, andiamoci, andiamoci. Andiamo, andiamo, andiamo a vedere che cosa. Impressioni a caldo. Grandi! Impressioni a caldo? Faceva schifo, e ve? Una cosaccia brutta proprio. Non c'è droga, non c'è droga. Benvenuto anche a te, fra un po' te lo diremo, dai, benvenuto nel mondo dei drogati. Il sole c'è, il cielo è caldo. Vado. Invia le guarigioni! Ecco c'è qua, ecco c'è qua. Ma sei con me? Sì, ma non gli devi mettere questo. Grandi! Non gli devi mettere il ciclo. No, io non mi stronti, ma lo proietti io. Hanno cambiato! Ma dove stai con voi? Non ti piace? Questo ti ha notato. Grande! La raccomando. Dici il nome! Danilo Mori. Chi ti ha portato qua? La sola ho scelto io e ce li vado qua. Ma davvero? Grande, non me ne ho portato la sette persone. Sei troppo forte. Ho fatto salto a tutti, si caccava tutti sotto. Io sono Francesco, dammi anche. Grande Francesco. Mi raccomando. Oh, sorridi così, in aria. Bella. Grande. Che si divertimo abbastanza. Dai. È lo stesso camera. Ma non viene con me? Vieni, grande. Non sei, con te vengo. Dai, dai. Ah, uè, così mi ammazzo. Ah, uè, così mi ammazzo. Ah, uè, così mi ammazzo. Grazie, Marco. Guarda qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.